...vuole la verticalizzazione su Miccoli, che salta molto bene Cirillo, Miccoli solo davanti alla porta, Miccoli il risultato di Campagnolo... Goal! Fabrizio! Miccoli! 1-0! Ha fatto sotto lui! Con un'azione che solo nel primo tempo aveva quasi vinto il gol di Miccoli, che aveva sfiorato con un tiro da fuori il palo della porta di Campagnolo. Questa volta Miccoli non ha voluto rischiare la conclusione della Luca.